Siamo in Via delle Frasche a Campobasso e questa è una strada che collegherebbe la stessa Via delle Frasche a Piazza Molise. Oggi siamo qui perché c'è stata una segnalazione da parte dei residenti della zona che si chiedono come mai questa via sia ancora chiusa dalla recinzione tipica dei cantieri, e nonostante i palazzi siano stati completati il cantiere sia stato rimosso a maggio e chiedono all'amministrazione comunale di intervenire. Dal momento che l'apertura di questa strada consentirebbe loro di viaggiare più in sicurezza e di evitare il disagio di dover allungare il percorso di rientro a casa e dunque anche di raggiungere più velocemente la tangenziale, in modo particolare lo svincolo di Piazza Molise e la statale verso Foggia. Piazza Molise e l'apertura Piazza Molise e l'apertura